Quello che voglio dirvi è che Rimini ha una grossa opportunità in questo momento perché dal punto di vista culturale e delle trasformazioni può essere uno dei poli nazionali ed europei di questo nuovo concetto di mobilità. Ne abbiamo parlato anche col Presidente perché veramente la mobilità è il settore che sta cambiando di più a livello mondiale. Quando ho cominciato io a occuparmene davano tutti per scontato, ma i trasporti non cambieranno mai, il vantaggio ambientale dei trasporti non si raggiungerà mai, tutto il resto sì, l'energia, gli edifici, ma i trasporti, poi in Italia, ecco invece stanno cambiando molto. Allora comincerei con questo architetto famoso che è Le Corbusier che fra il 1936 e il 1940 ha raccontato come l'automobile fosse una rivoluzione positiva. L'automobile secondo lui ha completamente cambiato il mondo perché lui dice addirittura rende il sole, il ciclo di 24 ore del sole viene reso molto più lento dal fatto che con l'automobile si può raggiungere da un punto a un altro, dal door to door in brevissimo tempo. E' come se le giornate fossero velocizzate di venti volte perché allora c'era solo il treno e gli spostamenti poi dalla stazione del treno a dove si doveva arrivare. Quindi l'automobile è stata la rivoluzione, ma quello che non si aspettava forse Le Corbusier è che questa rivoluzione prendesse piede in una maniera che poi fosse difficilissimo da controllare. Infatti prendendo spunto da un altro soggetto che è Bob Dylan che nel 1963 prima della rivoluzione del 68 disse i tempi stanno cambiando, the times they are changing, aveva previsto che qualche cosa stava nascendo, ecco adesso in questo periodo siamo nella fase della rivoluzione che coinvolge l'uso o il non uso dell'automobile. Siamo testimoni di questo momento e lo sapete meglio di me, ci sono delle battaglie continue anche ideologiche se volete su quanto l'automobile debba essere centrale nel nostro modello di sviluppo. Quello che sta accadendo è uno shift di paradigma, un cambio di paradigma per cui dalla mobilità personale con cui le singole persone si muovono si passa a una modalità condivisa per cui dal veicolo privato si passa alla mobilità come servizio. Se ci pensate fino a pochi decenni fa, anzi forse neanche due decenni fa c'era solo l'alternativa fra veicolo privato, singolo veicolo con una persona che si sposta e trasporto pubblico. L'antitesi fra questi due, la chiave della mia macchina oppure uso il trasporto pubblico. Quello che sta accadendo è che dal concetto di trasporto pubblico si arriva al concetto di servizi di mobilità a disposizione dei cittadini, a seconda di quello che serve caso per caso. Cioè questo binomio tra veicolo privato e trasporto pubblico sta saltando e adesso vi racconto un po' come. Siamo passati quindi da una fase iniziale del XIX secolo dove durante la prima rivoluzione industriale c'era la mobilità individuale, il cavallo, la persona, a una fase in cui si passa al XX secolo con l'arrivo delle automobili che producono una rivoluzione che era quella che ci raccontava Le Corbusier e ci stiamo domandando ma adesso dove stiamo andando? Qual è la nuova forma di mobilità? Se salta l'antitesi veicolo privato e trasporto pubblico come sarà la mobilità del futuro e come sarà la mobilità del futuro in una città? Noi come Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile abbiamo creato insieme al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dei Trasporti l'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility. La Sharing Mobility può essere definita come quella forma di mobilità che ha tutti i servizi diciamo urbani di sharing che conoscete perché Rimini è una delle città della sharing mobility quindi il car sharing, il bike sharing, lo scooter sharing, i monopattini sharing, tutta la sharing mobility. Ma in realtà se ci pensate il concetto di mobilità condivisa è più vasto. Abbiamo creato quest'idea di ventaglio per dire che i cittadini hanno a disposizione un ventaglio di soluzioni che possono scegliere e che possono utilizzare caso per caso a seconda di quello che gli serve di più. L'unica cosa che è fuori da questo ventaglio è l'auto privata con un solo conducente a bordo perché già l'auto privata che fa carpooling già fa parte di questo ventaglio. Carpooling, ride-hailing, car sharing, scooter sharing, taxi, noleggio con conducente, scala mobile, ferrovia, autobus, tram, metropolitana, treno urbano, treno. Noi non ci abbiamo mai pensato che tutto questo fa parte di un'unica forma di mobilità, la mobilità condivisa. Ma perché non ci abbiamo mai pensato? Perché spesso queste forme non sono integrate fra loro anche a livello di pagamento. Allora grazie alle app e grazie agli smartphone noi riusciamo con il concetto di mobilità come servizio a poter avere una sorta di pacchetto di mobilità che io posso utilizzare e pagare allo stesso modo scegliendo volta per volta il tipo di servizio. A questo punto il fatto di non utilizzare l'auto privata non è una limitazione, una punizione. Noi non vogliamo raccontare una storia che è una storia negativa, non bisogna utilizzare l'auto. Noi dobbiamo raccontare una storia positiva se è vero. Cioè ci sono dei servizi che conviene utilizzare perché sono più economici e perché procurano più benessere. Guardate questa idea della mobilità condivisa ormai è il trend in quasi tutte le città del mondo. Io quando ho vissuto a Parigi già 15 anni fa raccontavo se avessi avuto un'auto privata l'avrei venduta il giorno dopo se me l'avessero regalata perché era più un problema che un vantaggio avendo la metropolitana, il trasporto pubblico, la bicicletta e lo sharing. Nelle città la mobilità condivisa se io ho questo ventaglio di possibilità e se io ho la possibilità di attivarle questo è molto più piacevole e molto più economico rispetto all'utilizzo del veicolo privato. Siete d'accordo su questo o siete scettici? Vi sembra che l'idea del ventaglio... guardate sembra abbastanza naturale tutto questo ma voi lo sapete che non c'è ancora un termine in italiano per dire che cos'è la mobilità condivisa che tutto questo fa parte di un'unica visione. Noi diciamo il ventaglio ce lo siamo inventato noi ma ancora non c'è un termine e perché dico che Rimini ha un'opportunità? Rimini fa le tante fiere belle che fa Rimini io partecipo da sempre a Ecomondo ma ho visto anche altre fiere ce n'è una che si chiama Ibe perché riguardava i bus, gli autobus e i pullman. Ecco l'opportunità è cambiare questo punto d'incontro e farla diventare da un pezzo solo di mobilità, quella dell'autobus e dei pullman, farla diventare la fiera della mobilità condivisa e questa è una proposta che facciamo con una visione che abbiamo perché non c'è ancora in Italia non solo una fiera ma un punto di riferimento culturale su questo. Siccome è un trend globale che sta avvenendo, io la settimana scorsa stavo a Lisbona che è una città di 500.000 abitanti con quattro linee di metropolitana i tram più belli d'Europa e una serie di mobilità enorme e i cittadini sono contentissimi. Questo trend che sta diciamo avvenendo a livello globale in Italia ancora non ha diciamo viene sempre presa Milano come esempio, a parte il fatto che da Romano sempre Milano e io però non posso di niente perché Roma è un disastro totale e peggiora, non migliora, non state registrando, il sindaco Gualtieri però non è tutta colpa sua. però diciamo a parte Milano che viene presa come esempio e alcune città italiane non abbiamo ancora sviluppato, non stiamo ancora seguendo come leader questo trend. Allora volevo darvi questa idea del ventaglio perché è importante e volevo darvi quest'altra idea, abbiamo creato quest'acronimo che si chiama Less Cars che uno dice ok vuol dire meno auto, sì, vuol dire meno auto ma è anche un acronimo perché C sta per connected, A sta per autonomous, R sta per renewable e S sta per shared. Cioè avere meno auto è fondamentale ma la mobilità condivisa si sta diciamo diffondendo perché può essere connessa, cioè le persone e i mezzi possono essere collegati, possono avere dei dati, possono scambiare dei dati e quindi riuscire ad avere delle connessioni. Può essere autonoma, le auto a guida autonoma lo sapete è la prossima evoluzione ma secondo voi ha senso che ci sia una guida autonoma? Nel senso che io salgo sulla mia automobile e mi porta in ufficio mentre io leggo il Sole 24 ore o il Corriere dello Sport forse è meglio ma ha senso che cosa cambia? Quasi nulla, sempre lo stesso traffico. Adesso vedremo qual è il futuro della guida autonoma. Renewable perché può andare tutta a energie rinnovabili quindi ha zero emissioni, energie rinnovabili, chiaramente se è elettrificata, se non va col petrolio e shared perché è condivisa. Quindi il modello l'è scarsa, ha bisogno di questi pilastri per potersi realizzare. Connected, autonomous, renewable and shared. Questo è uno dei mezzi che potremmo vedere nel futuro. È un mezzo autonomo, si chiama TaxiBot, lo stanno già realizzando e già è in servizio in alcune città a Hamburgo, in alcune città europee e soprattutto negli Stati Uniti. Sono dei mini veicoli da otto persone, sei, otto persone, senza conducente, quindi autonomi, elettrici, connessi, condivisi ma che loro seguono le richieste in tempo reale. Per cui se io devo partire da qui adesso e devo andare in fiera, col mio telefono lo chiamo, arriva da solo, mi prende, ma mentre mi porta, prende le richieste di altre persone e fa il tragitto in base alle richieste. E quindi è una mobilità condivisa, molto agile, a zero emissioni e che vantaggio ha? Ha vantaggio che ognuno di questi può togliere 5-6 automobili dalla strada su quel tragitto. Ci sono anche degli aspetti sociali, perché io comunque condivido il viaggio con altre persone. Una cosa stranissima è che quando parlo di questi aspetti sociali con i giovani, mi guardano come il boomer per dire perché aspetti sociali. Dico, beh, se tu devi fare un tragitto invece che farlo da solo, lo fai con altre persone, mi hanno guardato come dire, però assolutamente no, io sento le mie cuffie, guardo che bisogno c'è, e questo per me è preoccupante. Mi sono vergognato perché pensano che sono un molestatore, cioè io ho detto ma perché, scusa, quando stai su un, magari puoi chiacchierare o guardare, ma andata malissimo, ho fatto una lezione al master alla Lewis, alla mia università, c'erano 19 anni, ho detto no, non vogliamo aspetti sociali. Però magari su questo possiamo fare un altro incontro, però sicuramente sono a zero emissioni e sicuramente riducono la congestione e il traffico. Questa è la mobilità autonoma senza guidatore che noi stiamo prevedendo. Ora, tutto questo nasce dall'utilizzo delle app e dagli smartphone, ma non è nient'altro come quasi sempre, diciamo, nello sviluppo umano, che il miglioramento di una cosa che si è sempre fatta. Cioè, l'autostop, adesso si chiama carpooling, perché io ho l'app, ma è la stessa cosa, invece di mettere però il cartello con scritto Vancouver, ho l'app e dico, io sto andando in azienda, vado a lavorare a chiesi farmaceutica che sta a Parma, vivo a Monte Chiarugolo, vado in azienda e magari chiesi farmaceutica che ha mille dipendenti, ce ne sono altri 18 che stanno nell'area di Monte Chiarugolo e di quelli magari tre la mattina fanno lo stesso tragitto mio e andiamo insieme, perché andare con quattro macchine? Ok, ma è una forma di autostop, è un autostop organizzato e intelligente. Ok? Quindi, primo messaggio, la mobilità condivisa è il futuro della mobilità urbana. Secondo, grazie alla tecnologia si sta sviluppando molto bene. Terzo, il modello del veicolo privato è un modello che non funziona più, funziona solo quando serve, perché ci sono dei casi in cui è assolutamente obbligatorio utilizzare l'autoprivata, non solo per le vacanze, per la famiglia, ma anche a livello personale. Non si possono obbligare le persone a non prendere l'automobile, si possono aiutare le persone a avere dei servizi migliori. C'è un problema però che le persone devono farsi, devono essere perlomeno aperte a provare questi servizi, altrimenti c'è un blocco culturale. Ora, io vorrei giocare un po' con voi, mi autorizzate a togliere la giacca, posso? Giochiamo insieme, vediamo la vostra preparazione su alcuni temi della mobilità. Allora, facciamo la prima domanda. Allora, secondo voi, in che anno è stata disponibile per la prima volta in vendita sul mercato? Non prendete Google, già ho visto che state la prima auto full electric, cioè non ibrida, ma proprio solamente elettrica al 100%, da quando è disponibile sul mercato? 1999, 1934, 1921, 2013. Prego. La votazione è aperta. Eccoci. Vai, più o meno ci siamo. C'è qualcuno che deve ancora... Ok. Allora, Presidente, io vi faccio i complimenti a voi riminesi, perché quasi mai, anzi, non è mai successo in questo Mentimeter che vinca il 1921. Forse perché essendo Romagnoli abbastanza smart avete capito che quando ho detto non ibrida elettrica io volevo in realtà fregarvi, perché l'ibrida è venuta nel 2005, eccetera, ma invece la... perché la realtà è proprio questa, che questo signore, in realtà si chiamava Pope, noi abbiamo... è venuta una H per sbaglio ma ci è piaciuta di più perché dà il senso di speranza, ma si chiama Albert Pope, nel 1901 ha investito tutti i suoi soldi per creare un'auto elettrica, che era questa, e ne ha prodotte 500 e le ha vendute negli Stati Uniti, e quando i suoi amici gli dissero ma perché adesso che c'è l'era del petrolio, cioè si prevede uno sviluppo del petrolio, tu investi sull'auto elettrica, è rischioso? E lui dice no, sono sicuro che vincerà sul mercato perché è più pulita, it's cleaner, fa meno rumore e sono convinto che nessuno vorrà sedersi su un motore a scoppio. Che è successo? Che ha perso tutti i suoi soldi, il nostro povero Pope, l'auto a petrolio in America è esplosa, le auto elettriche sono scomparse e sono adesso rinate come tendenza finale sul mercato. Ma perché? Ne parlavamo anche oggi con Maurizio. Praticamente si è creato, grazie all'industria del petrolio, ma grazie a un binomio, automobile, petrolio, assicurazioni, cioè un mondo economico che ha fatto crescere questo settore. Questa persona era la persona giusta, con l'idea giusta, ma al momento sbagliato. Qual è la lezione che ci viene da questo? È che le idee hanno i loro momenti, non vanno giudicate in assoluto. Adesso questa idea è un'idea vincente da circa 15 anni, allora è stata un'idea perdente. Quando giudichiamo la mobilità e le trasformazioni della mobilità, pensiamo al contesto in cui stiamo, non ragioniamo guardando il passato, vediamo se questo è il momento giusto per fare certe cose. Ok, visto che siete bravi con questa, facciamo l'altra domanda. Allora, c'era un esperto di trasporti, Knoflaker, che è un austriaco, che nel 1970 a Vienna voleva dimostrare quanto grande fosse uno spazio occupato dall'automobile in città, perché lui sosteneva la ragione. Guardate che è folle avere una macchina così grande per spostare una persona sola, una persona e mezza di media. Come ha tentato di convincere i suoi cittadini a Vienna? Questo è quasi un premio Nobel, non era uno fuori di testa, è uno bravo. Come ha tentato? Piantò tre piccoli alberi su ogni posto autodisponibile, contrassegnò le auto parcheggiate con un grande lesivo, non devi parcheggiare sulle nostre strade, costruì un telaio da passeggio e camminò per le strade della città con un telaio da passeggio. Presidente, io non ci vengo più a Rimini perché o voi l'avete diffuse prima? Allora, il nostro amico lo fece veramente, fece questo, adesso non so se si vede bene, lui costruì una specie di gabbia con questo telaio e si spostava per la città di Vienna per dimostrare che per spostare una persona si occupava questo spazio. Tenete presente che un'automobile sta ferma in media il 94% del tempo, quindi noi occupiamo per il 94% del tempo questo spazio con questi metri quadri per spostare una persona che, non so quanti ingegneri ci stanno in questo, ci sono ingegneri? Non vi vergognare, ingegnere è bello, non è che... ci sono ingegneri? Sì. Allora, anche dal punto di vista tecnico, per spostare 80 kg, anzi, per spostare 100 kg, avere una macchina o un mezzo che ne pesa 10 volte di più o 20 volte di più è chiaramente una decisione non efficiente. Ecco, lui fece questo e anche perché lui fece questo, ma non solo, Vienna è considerata oggi una delle città più efficienti come trasporto pubblico, mobilità condivisa e col minor numero di automobili per abitante. Secondo voi, a Roma, questa non è la Roma, la faccio io, ogni mille abitanti, ogni mille abitanti, compresi gli ultranovantenni e i bebè, quante automobili ci sono ogni mille abitanti? 700. Oh, ma allora ragazzi, cioè voi me lo dovete dire, sono 700 su una media nazionale di 630, ok? Quindi, siccome sono compresi anche i novantenni e i bebè, stiamo parlando di un paese che ha più automobili che patenti e che ha più veicoli di persone che le possono guidare e che li usano così, perché a Roma non è che vengono usati in maniera di... ma non solo a Roma, è in tutte le città. Ultima domanda, anzi penultima, io siccome mi diverto a fare le foto, di vedere come si fa a fare greenwashing, come fanno le aziende a prendere un po' in giro le persone o invece a dare dei dati seri, nel 2005 quando viaggiavo fra Parigi e Roma, su tutti i sedili di EasyJet ho trovato questa pubblicità, che diceva, se viaggi, quando viaggi su EasyJet, emetti meno CO2, meno gas serra, che se viaggiassi su una Toyota Prius, che allora era la macchina ibrida la più green, non c'era ancora l'elettrica full. Quindi, se viaggi in treno, in aereo, su EasyJet, emetti meno CO2, che se viaggi... ma secondo voi è un dato vero o no? Votate. Si può anche dire forse. Questa l'ho messa con tre risposte, così qualcuno che sbaglia ce l'ho, se no... Allora, la maggior parte dice sì e qualcuno dice forse. Chi è che ha detto forse? Perché hai detto forse? Non lo so, potrebbe anche essere. Sensazione. Ok. C'è qualcuno che ha detto forse perché non è... Prego. Dunque, ho detto forse perché dipende se intendiamo un procapite o se intendiamo un... Lo sapevo. Il viaggio intero. Bravo. Se torniamo alla presentazione, c'era questa cosa piccola piccola che hanno scritto in basso, quelli di EasyJet nel 2005. I dati si basano su una persona, procapite. Quindi che hanno fatto? Il dato è vero. Quindi tutti quelli che hanno detto sì hanno ragione. Il dato è vero. Ma secondo voi, comparare uno che viaggia da Parigi a Roma in aereo per venire a Roma con uno con gravi problemi psicologici che da solo parte da Parigi con una Toyota Prius da solo perché è una persona... E se fa Parigi-Roma, comparare questi due... Quindi 18 ore da solo... È chiaro che se tu dividi le emissioni dell'aeroplano, le dividi per 150 persone... Attenzione perché poi hanno immaginato l'aereo completamente pieno, senza neanche un posto libero, per 150 persone con le emissioni di un guidatore solitario sul Toyota Prius, vince leggermente l'aeroplano. Perché vi ho fatto questa domanda? Perché quando sentite parlare di mobilità, di trasporti, di dati, di auto elettrica, di mobilità condivisa, guardate sempre le fonti dei dati e che cosa vi stanno raccontando. Perché i dati si possono usare in migliaia di modi diversi. Quindi questa comparazione è vera ma non ha senso. Ok? Quindi... Prego, manca... Ma io essendo ferroviere non l'ho messo perché dice se no lui ha messo il treno. Manca il mezzo più ecologico che fra l'altro ci mette di meno della Toyota Prius perché con l'alta velocità Parigi-Lione, poi Lione... Io stavo andando a Roma comunque ci metti di meno ed è molto più ecologico. Perché è molto più ecologico? Perché va a energia elettrica anche perché porta più persone. Adesso vi faccio l'ultima domanda su cui dovete votare. Però vi dovete essere sinceri. C'è qualcuno? Certo, no. Il costo, se parliamo del costo, si apre tutto e facciamo un altro convegno, un altro incontro perché sui costi si... La domanda è ma perché una cosa più ecologica costa molto di più di una cosa meno ecologica perché se io devo andare con l'alta velocità da Parigi a Roma costa molto di più dell'aereo. Quindi questa è una distorsione del sistema dei prezzi su cui... Ma io vi chiedo, dovete essere sinceri, c'è qualcuno di voi, perché ho visto anche dalle domande che avete fatto, che non ce la fa più di sentir dire l'auto elettrica, ci vogliono far prendere l'auto elettrica, ma che dice magari, forse anche giustamente, ma l'elettricità non ci basta, le energie rinnovabili sono poche. Come facciamo a dire che tutte le auto elettriche sono a zero emissioni perché utilizzano energie rinnovabili? Allora io vi faccio questa domanda. Oggi, oggi, dati dicembre 2023, l'elettricità in Italia, quindi quella che utilizzano le auto elettriche, tutte le elettricità, che percentuale ha di fonti rinnovabili, cioè a zero emissioni. Allora, non lo sa quasi nessuno, perché fra i falsi miti che circolano, non ci diciamo i fondamentali in televisione, nel 2023 l'elettricità in Italia è stata prodotta al 40% da fonti rinnovabili, perché abbiamo l'idroelettrico al 17%, l'eolico, il solare e le biomasse. Noi già oggi siamo al 40%. Il governo attuale ha fissato come obiettivo al 2030, cioè fra sei anni e mezzo, almeno il 66% di elettricità da fonti rinnovabili al 2030, per arrivare al 100% al 2040. Quindi è importante capire che le energie rinnovabili, soprattutto in Italia, ci sono e che gli obiettivi sono quelli di arrivare al 100% di elettricità da fonti rinnovabili in poco tempo. Perché chiaramente se l'auto elettrica non si aggancia a una rete elettrica con energie rinnovabili, è assolutamente inquinante, anzi impatta sul clima anche di più dell'autodissel. Pensate che una Tesla in Polonia emette più gasserra di una Porsche, perché la Polonia produce col carbone quasi l'80% dell'elettricità. Quindi il fatto che io abbia l'auto elettrica ma l'elettricità viene prodotta col carbone non mi risolve nessun problema dal punto di vista del clima, anzi me li aumenta. Con questo ho voluto darvi dei messaggi anche su alcune cose che sentiamo, su cui ci sono dei dibattiti anche politici, ma spesso senza i dati dietro, che sono molto importanti. Ci sono domande, perché poi alla fine faremo altre domande, ma intanto vi chiedo, ci sono domande o dubbi su quello che ci siamo detti o anche critiche? È giusto avere energie da fonte rinnovabile, però si sta pagando anche a un prezzo tantissimo alto, a un prezzo molto alto. Mi riferisco ad una serie di pale eoliche di tre volte il grattacielo quasi, che vogliono fare qui sugli appennini distruggendo un territorio. Quindi non so fino a che punto conviene ottenere queste energie pulite devastando interi territori. E così i pannelli solari nelle zone agricole, sui terreni. Allora, ci stiamo dando del tuo. Tu hai usato la parola prezzo. Innanzitutto parliamo del costo, perché anche qui c'è un altro mito. L'energia rinnovabile attualmente, perché vent'anni fa c'era un costo molto alto, l'antepietro che c'erano gli incentivi in bolletta, ve li ricordate, che pagavamo per le rinnovabili. Attualmente le energie rinnovabili sono la forma di produzione elettrica che costa meno di tutte in termini economici. Meno del gas, meno del carbone, meno del nucleare. Molto meno del nucleare. Quindi se parliamo di prezzo dal punto di vista economico, non c'è dubbio che ormai le energie rinnovabili sono le più economiche. Tant'è vero che tutti gli investimenti globali, ormai praticamente gli investimenti in nuova elettricità nel mondo, sono praticamente più del 60% sulle fonti rinnovabili. Il prezzo di cui parli tu è un prezzo paesaggistico. E il prezzo paesaggistico è un prezzo che può essere in alcuni casi alto e che va deciso però caso per caso. Noi abbiamo il problema opposto. Noi abbiamo il problema anche che moltissime sovrintendenze negano una piccola centrale di pannelli solari che sta in un terreno non utilizzato solo perché teoricamente potrebbe dare fastidio ma non dà fastidio. Quindi il discorso del paesaggio va visto caso per caso. Ci sono dei casi in cui mettere le paleoliche a San Pietro o in zone importanti o in zone diciamo di un certo tipo sicuramente non va bene. Quindi lo sbaglio che si fa secondo me è trattare questi temi compreso quello della mobilità urbana da un punto di vista ideologico. Da tutte e due le parti. Pale sì, pale no, auto elettrica sì, auto elettrica no, auto sì. Vediamo caso per caso quando serve come serve. E scopriamo che in moltissimi casi le paleoliche non danno fastidio al paesaggio e in altri sì. Magari sono stati autorizzati in quelle che danno più fastidio al paesaggio in alcuni casi. Noi in Italia e tu hai ragione facciamo sempre riferimento al paesaggio però ad esempio nell'auto elettrica ci sono i materiali rari. Sì. E quindi ci sono anche i bambini del Congo che con le mani praticamente prendono il colta. È vero. Allora bisognerebbe fare un ragionamento sull'impatto ambientale e la sostenibilità integrata. Giustissimo. Nord e sud del mondo. Giustissimo. No? Di questi vari scenari. Ma infatti io oggi sono qui. La domanda sull'auto elettrica ve l'ho fatta perché è un tema divisivo anche a livello politico quindi è importante magari parlarne. Ma io sono qui per descrivervi il modello less cars. Il modello della riduzione di automobili. Non il modello more cars perché non c'è nessun automobile che ha un impatto ambientale zero. L'automobile elettrica non ha un impatto zero. Per fare le batterie ci sono le materie rare. Su questo magari possiamo fare anche gli incontri. Ma noi con 650 automobili ogni 1000 abitanti dovremmo perlomeno puntare come sistema paese ad arrivare come la Francia a 400 automobili ogni 1000 abitanti. Così riduciamo anche tutti quegli impatti. Ma come facciamo ad arrivare a 400 automobili ogni 1000 abitanti? Offrendo servizi alternativi e investendo nel trasporto pubblico e condiviso. Noi veniamo da stagioni e decenni in cui si sono tagliati gli investimenti sul trasporto pubblico e il trasporto condiviso. Per cui sostanzialmente si ha l'idea, ne parlavamo anche oggi in fondazione, che il trasporto pubblico sia una cosa un po' da sfigati. Che è esattamente il contrario di quello che sta avvenendo in tutte le grandi città del mondo. A Parigi gli amministratori delegati delle più grandi aziende finanziarie vanno in metropolitana insieme al ragazzo che va a scuola. E questo è il cambio culturale. Perché se noi spostiamo da tante auto diesel a tanto auto elettriche non abbiamo risolto quasi nulla in termini sociali e su alcuni parametri ambientali. Va ridotto il numero di auto. E infatti, grazie per la domanda, perché io vi voglio far vedere, questo è il target di riduzione delle emissioni di gas serra per evitare i cambiamenti climatici, i danni catastrofici dei cambiamenti climatici. C'è un'altra domanda? No, era proprio pertinente sulla mobilità condivisa. Perché nel 90 a Mexico City io l'ho usata tranquillamente, i taxi condivisi. In Italia ne sento parlare da anni e non ho mai visto uno. Le volevo chiedere, lei che è più informato, che viaggia, dove esistano. Grazie, ci arrivo nella seconda parte della presentazione ma intanto le do subito una risposta. In Italia c'è un problema normativo da risolvere, per cui il taxi non può prendere altre persone nel tragitto, se non attraverso tutta una serie di salti giudici. Quindi in Italia va scardinato il codice della strada. Ragazzi, noi abbiamo un codice della strada, che anzitutto si chiama codice della strada, cioè come se la strada fosse l'obiettivo. Gli assessori si chiamavano assessori al traffico. Ve li ricordate? Fino a pochi anni fa. Cioè il concetto è c'è una strada, ci deve essere il traffico e c'è un assessore che gestisce il traffico. Cioè gli esseri umani erano assolutamente secondari. Invece adesso il cambio culturale di cui parlavo all'inizio è che sta cambiando la cultura. Se l'obiettivo è spostare le persone, non i veicoli, allora i taxi collettivi, il trasporto a chiamata, il trasporto condiviso possono avere un futuro anche in Italia. Va fatto un cambio culturale a livello politico ed è per questo che Rimini ha un'opportunità. Perché nelle città così dinamiche, di media grandezza, si riescono a fare delle cose molto più facilmente rispetto alle grandi città, che però lo stanno comunque facendo. Allora dicevo, questa è la riduzione drastica delle emissioni che dobbiamo avere al 2050 dal punto di vista climatico. Guardate, è una specie di montagna russa. Questa è la riduzione che dobbiamo avere e il settore dei trasporti deve ridursi del 55%, ma il settore dei trasporti è l'unico settore, quella riga arancione, che dal 1990 non ha ridotto le emissioni ma le ha aumentate. È l'unico settore che ha aumentato le emissioni invece di ridurle. Le altre sono energia, industria, edifici, agricoltura. Quindi parliamo di un settore che proprio sta sul banco degli imputati dal punto di vista climatico. E perché? Questa è l'indagine che ha fatto il governo inglese sui trasporti inglesi. 70 milioni di tonnellate le emettono le automobili. Non so perché hanno scritto taxi insieme a cars, perché i taxi saranno lo zero, forse per far incazzare i tassisti, non so perché, però insomma sono cars, ok? Quelle sono cars. Poi, aviazione, 35 milioni di tonnellate, i veicoli pesanti, cioè i camion, i truck, 20 milioni di tonnellate, le ferrovie, solo 2 milioni di tonnellate. E questo è perché, diciamo, come emette il settore dei trasporti in Inghilterra, ok? Adesso non posso farvi vedere tutte queste slide, poi magari le lasciamo e le condividiamo, ma un'altra cosa importante oltre al clima è questa. Gli ossidi di azoto vengono soprattutto dal trasporto stradale. Questo numero 39 qui di percentuale viene dal trasporto, cioè l'aria che respiriamo in città, per la parte ossidi di azoto, proviene dal trasporto per i motori a combustione. In questo sì che l'auto elettrica migliora. L'auto elettrica non ha emissioni dirette di ossidi di azoto, pur avendole di particolato, perché quello che viene dalle gomme, dai freni rimane. Quindi c'è una questione di sanità e una questione ambientale. C'è qualcuno che pensa che l'auto elettrica emetta di più dell'auto diesel? Perché quando parlavamo delle emissioni, includendo anche il ciclo di vita e le batterie, questa era paragonata a una Nissan Leaf, una Tesla, un Audi con invece i modelli a combustione, anche includendo le batterie, le emissioni totali dell'auto elettrica sono più basse. Ma a noi non interessa perché noi siamo quelli di Les Cards. Perché siamo quelli di Les Cards? Guardate la crescita della motorizzazione, il tasso di motorizzazione nel mondo. Scusate, questa è in Inghilterra. Dal 1952 al 2018 questa parte marrone è la crescita dell'uso dell'automobile privata. Questa è la crescita. Chi si ricorda gli anni, io mi ricordo già gli anni 80, dove c'era già anche anni 70 un grosso traffico. Ma guardate adesso qual è la media rispetto ad andare a piedi, andare in bicicletta, andare in autobus. Questa è in Inghilterra, ma sono molto simili in tutti i paesi. Nel 1965 il 42% dei cittadini aveva un'auto. Nel 2014 il 76% ha un'automobile. Questo è. E questo è il tasso di motorizzazione italiano che vi dicevo, 683, che ci mette con molto onore tra i più alti del mondo, insieme al Giappone e a Nuova Zelanda, come Italia. Allora, una delle obiezioni che si fa è ma perché ci rompete le scatole con la mobilità urbana. Perché la mobilità urbana è così importante? E ho visto anche fra le domande che qualcuno di voi ha fatto, c'era. Ma la mobilità di lunga distanza è più importante di quella urbana, no? Perché sono distanze più lunghe. Guardate questo dato, che questo è stato fatto negli Stati Uniti, ma abbiamo anche i dati italiani. Queste sono le distanze percorse sul totale degli spostamenti, ok? Il 27%, che è un numero altissimo, sono spostamenti meno di un miglio, cioè un chilometro e mezzo. Su base nazionale il 27% degli spostamenti fanno meno di un miglio, il 24% degli spostamenti fa fra 1 e 3 miglia e il 12% sta sotto fra 3 e 5 miglia. Vuol dire che il 63% dei nostri spostamenti avviene per distanze al di sotto degli 8 chilometri. Cioè la mobilità urbana da sola, perché 8 chilometri di spostamenti stiamo parlando o all'interno di una città o di spostamenti piccoli, fra piccole città o all'interno di comuni, 8 chilometri massimo. Se noi riuscissimo a ridurre gli impatti negativi di questo 63%, avremmo già fatto tutto. Potremmo anche continuare a prendere EasyJet tranquillamente, sapendo che emettiamo meno dell'atogra Prius. Perché? Perché è nel 63% di spostamenti che risiede l'impatto ambientale del problema. In Italia l'abbiamo fatto noi come Fondazione Sviluppo Sostenibile col Ministero dell'Ambiente, i dati sono più o meno gli stessi. Il 69% delle emissioni dei trasporti sono attribuibili alla mobilità locale. È nelle città che si gioca la partita, è nelle città che giochiamo la nostra partita a livello ambientale, a livello sociale e a livello di sanità. Se uno deve prendere la macchina per fare una vacanza con la famiglia e andare in Alto Adige, non è quello il punto, il problema. Perché stiamo parlando di uno spostamento molto marginale sui numeri totali. Perché tutti gli spostamenti di tutti i giorni sono quelli importanti. Secondo voi quanto costa mediamente un'automobile all'anno a una famiglia italiana? Questa non c'è mentimeter. risposta libera. Chi offre di più? 5.000? 2.500. Quanto costa? Io ho una macchina, se io devo dividere il costo anno, ogni anno quanto costa? Poi la domanda è molto buona, poi vediamo perché. Quanto costa mediamente? Perché molto spesso ci dicono, quelli della mobilità sostenibile non si rendono conto che la mobilità sostenibile, la sharing mobility, è una cosa per ricchi. No, è una cosa un po' da fighetti del centro storico, che costa tanto, di chi si può permettere. Ma noi italiani, spesso, soprattutto noi italiani, è per quello che abbiamo 700 auto ogni mila abitanti, non sappiamo quanto spendiamo per l'automobile. Ha ragione chi ha detto 5.000. Mediamente una macchina costa circa 5.000 euro l'anno, fai 4-5.000 euro a seconda adesso di quanto viene utilizzata. E la domanda era giustissima quella che hai fatto. Perché? Perché quasi nessun italiano, quando gli si chiede quanto spendi all'anno per la macchina, pensa all'acquisto della macchina. Perché noi diamo scontato che siccome è come se fosse una tassa o un dovere che dobbiamo fare per comprarla. Per cui dico l'assicurazione, il bollo, la benzina, la manutenzione, le multe. Quindi noi spendiamo. Ora, voi ditemi, per tenere fermo il 94% del tempo, un oggetto. Pagare 5.000 euro l'anno. Se io con quei 5.000 euro avessi il mobility as a service, cioè un pacchetto di credito che io posso utilizzare per la mobilità, per trasporto pubblico, bus, tram, metro, taxi, la notte quando voglio e non c'è niente, noleggio con conducente, sharing mobility, sono tanti 5.000 euro. E che tipo di vita farei? Forse sarei anche più sereno, forse sarei anche, non dico che posso socializzare perché non va di moda, ma comunque potrei anche avere una vita più gradevole. Non ci pensiamo, quindi quello che voglio dire, ne parliamo anche questo con Maurizio prima, da un punto di vista culturale, tutti noi, tutti noi pensiamo che la macchina l'automobile in città sia una sorta di dovere o di must che noi dobbiamo avere, ma perché non osiamo fare il passo nel provare a vedere come si vive senza, ma ci deve essere l'alternativa e ci deve essere l'alternativa che funziona, altrimenti sì, siamo nel mondo che non funziona e quindi che non ci convince. 5.400 euro è il costo medio anno di un'auto in Italia. Quelle sono le voci, l'abbiamo fatto come osservatorio sharing mobility, l'abbiamo presentato alla conferenza nazionale che quest'anno faremo a Rimini, faccio pubblicità Presidente, posso? Che quest'anno faremo a Rimini in fiera a fine novembre, conferenza nazionale, la prima conferenza nazionale sulla mobilità condivisa, a cui chiaramente siete tutti invitati. Questo è il costo medio. Chiaramente se poi noi abbiamo anche diviso quali sono, cosa vuol dire per esempio non possedere un'auto, utilizzare una bicicletta personale, aumentare gli spostamenti a piedi, cioè fare un po' di paragoni e vedere quanto si risparmia al mese, all'anno, che è tantissimo. Si spende meno con l'affitto. Contattare il signore che prende il 5% poi di perdi i sogni, è vero. E questa cosa è interessante, questo è un modello interessante anche dal punto... Il fatto di non avere la proprietà ti permette non solo di non avere una serie di problemi, ma anche di avere una flotta che si aggiorna sempre più velocemente. Il parco auto italiano medio è il più vecchio d'Europa, cioè le nostre automobili hanno mediamente 15-16 anni, tra i 12, insomma a seconda delle zone, ma rispetto agli altri paesi europei, quindi invece prenderli in noleggio... Ok, adesso visto che noi stiamo parlando di piano strategico e stiamo parlando di come la città cambia con la mobilità, io la prima cosa che farei è farvi ragionare sul fatto che la mobilità in passato è stata considerata a parte rispetto all'urbanistica. C'era l'assessore al traffico, che secondo me era il peggior lavoro che uno potesse fare, perché l'assessore al traffico non aveva speranze, e poi c'era l'assessore all'edilizia urbanistica e molto spesso questi due soggetti non lavoravano insieme. E ve lo dice uno che vivendo a Roma, ancora oggi, se voi andate a Roma, c'è tutta la fascia di edifici intorno al grande raccordo anulare, enorme, parliamo di 400.000 persone, 500.000 persone, che è stata costruita, tutti appartamenti costruiti e venduti, e poi si sono chiesti come ci arrivano questi adesso? Sono chiesto dopo, dopo averli autorizzati. Per cui quando sono stato a Copenhagen la prima volta, quando lavoravo alle ferrovie, più di vent'anni fa, venticinque anni fa, tra l'altro la metropolitana di Copenhagen l'aveva costruita, l'ha costruita l'ansaldo italiana. Sono andato all'inaugurazione dell'ansaldo della metropolitana e ho preso le prime stazioni che stavano nel nulla, nel nulla, cioè c'erano le stazioni nella campagna. E dico, ma scusate, va bene che siete ricchi, siete danesi, ma... Dice, no, ma chiaro, si fa prima la metropolitana e poi si costruisce, anche perché così i terreni acquisiscono valore e quindi vendiamo a più. Cioè, una cosa abbastanza... Cioè, non c'è un napoletano smart. Allora, il concetto qual è? Che la città cambia, l'urbanistica e la mobilità vanno integrate perché la mobilità fa cambiare completamente l'assetto della città e fa cambiare... Cambiare la mobilità vuol dire cambiare completamente la vivibilità di una città. E si può ancora fare. Cioè, le città che si stanno trasformando, e sono tante anche in Italia, che si stanno muovendo, come ha fatto Rimini... Io oggi ho fatto la foto al vostro lungomare, perché le mie figlie, che sono piccole, non sono ancora mai state qui, gliel'ho fatto vedere, guardate, non è un lungomare e basta. Questo è un posto che si può vivere, no? Che su cui c'è stata una sorta di riappropriarsi del territorio, fisicamente lo posso vivere. Non è solamente un posto per parcheggio. Diventa un pezzo della mia città che io posso utilizzare, che sento anche mio. Ecco, la mobilità... E lì sono sicuro che adesso gli indicatori di Rimini non ho visti, ma la mobilità dolce ariminisce a delle potenzialità enormi. Ok? Quindi questo è il primo punto. Anche perché, se noi parliamo solo di auto elettrica, questo è lo spazio occupato per spostare 48 persone con l'auto diesel. Questo è lo spazio occupato da 48 persone per spostare con l'auto elettrica. Identico. Questo è lo spazio occupato per l'auto autonoma senza... è uguale. Non ci cambia nulla. Non è il motore dell'automobile che cambia la gestione dello spazio. E se voi pensate anche a immagini di questo tipo, di spazio e di utilizzo dello spazio, quello che sta accadendo nelle città del mondo è una battaglia per lo spazio. Infatti noi nella nostra conferenza sulla mobilità condivisa l'abbiamo chiamata proprio street fight. c'è una battaglia per lo spazio. E in questa battaglia per lo spazio l'automobilista da solo, che occupa tutto quello spazio, fino a oggi non viene guardato male. Ma in alcuni casi ci sono proprio dei conflitti all'interno delle città. Se voi andate a Parigi comincia a esserci proprio un conflitto. Perché comincia proprio a esserci la sensazione che c'è uno squilibrio sociale. Se tu utilizzi tutto quello spazio, io non ho più spazio, devo stare schiacciato così. Siamo sicuri che è il liberale o il libertino dire a questa persona che forse non è il caso che prenda la macchina. Siamo sicuri che è una questione di privazione di libertà. E la libertà di questi? C'è la libertà di questi? Non la stiamo privando? Questo è lo spazio, guardate con i quadratini. Un quadratino, due quadratini col motorino, otto quadratini con l'automobile. Questo è interessante perché gli americani, che hanno una pessima secondo me, gestione di molte cose che riguardano la mobilità, però quando si tratta di andare a vedere il baseball invece si impegnano. E hanno fatto questo studio. Per cui hanno detto quantità di persone che possono viaggiare per ora per corsia, quantità di persone, non guardiamo l'inquinamento, per mezzo di trasporto. A sinistra vedete 1100 persone possono andare a vedere il baseball col taxi, 1800 in automobile privata. Se invece utilizziamo il walk and bike, 12.700 persone possono camminare e 15.000 possono andare in bicicletta. In bus 32.000. quindi per fare questo, quando noi costruiamo nuovi stadi, dove vanno 80.000, 50.000 persone a Roma per esempio, quando gioca una squadra, perché a Roma c'è una squadra sola di calcio, voi ve lo sapete. Però quando gioca la squadra della capitale, a Roma ci sono 50.000 persone. Ora, avevano previsto di fare lo stadio oltre il raccordo anulare, lontanissimo dal centro, stadio nuovo, quando parliamo di pianificazione urbanistica e mobilità. Se tu fai lo stadio nuovo oltre il raccordo anulare, a 27 chilometri da casa mia, come faccio io ad essere uno di quelli che vanno a piedi? E vanno tutti in macchina. Quindi l'urbanistica prevede e la mobilità insieme di recuperare degli spazi per permettere che possa andare allo stadio col bus, in bicicletta, a piedi e non per forza. Infatti quel progetto di stadio è stato bocciato e finalmente adesso faranno lo stadio dell'unica squadra della capitale vicino a Roma di Burtina, che è una stazione del... Allora, quindi pianificazione di trasporti, pianificazione dell'energia e pianificazione del territorio devono essere fatti insieme. Come state facendo voi? A me sembra che i vostri incontri che avete fatto dal 2006, Maurizio, cioè avete parlato di rigenerazione urbana, centro storico, mobilità, la pianificazione va fatta insieme. Si possono anche fare pezzettini, ma con una logica comune, per mettere insieme i pezzi con una logica comune. Allora, stanno nascendo quindi delle città che sviluppano degli habitat multimodali. Se guardete l'esempio con la campagna, quello è un tipo di campagna dove ci sono quelle specie di animali su in alto, sono tantissime. Quando si modifica l'agricoltura e diventa un po' più intensiva e si riduce la biodiversità, si riduce il numero di specie. Quando si arriva alla macroagricoltura intensiva qua, le specie sono queste. Sta succedendo la stessa cosa nelle città. Le città, essendo state sviluppate nel corso dei decenni per far muovere i veicoli, le automobili e non gli esseri umani, hanno ridotto la biodiversità umana, cioè gli utilizzi diversi e le specie diverse nelle città. Adesso si stanno sviluppando invece delle città che aumentano la biodiversità umana, aumentano l'utilizzo. Lo spazio viene utilizzato da tutti con scopi diversi. E questa è la trasformazione che stiamo vedendo. Delle strade multimodali, ed è questa la cosa interessante su cui io vi spingo a riflettere. Normalmente quando, torniamo qui, quando uno dice viene chiusa una strada, perché viene chiusa il traffico e viene utilizzata per fare altre cose, si pensa che quindi la capacità di spostamenti, la capacità modale di spostamenti di trasporto sia ridotta. Adesso ci spostiamo di meno, è chiusa la strada. Tutti i dati ci dicono il contrario. Se tu chiudi le strade, perché riduci il numero di auto che passano, ma aumenti lo spazio per gli esseri umani, per i ristoranti, per le biciclette, per i pedoni, aumenta, aumentano il numero di spostamenti, aumenta, le persone si spostano di più di prima. Perché sempre per il discorso che l'automobile con una sola persona a bordo occupa lo spazio, l'automobile riduce la mobilità totale di una città. Tutto questo è difficile da capire all'inizio se non lo vivi. E infatti, come voi sapete bene perché l'avete fatto a Rimini, in molti casi in cui si creano delle zone pedonali, in cui si creano delle zone miste, all'inizio ci sono degli scetticismi, ma dopo qualche anno nessuno, quasi nessuno, vuole tornare indietro, sbaglio. Ma soprattutto i commercianti, gli abitanti, le persone che resistano all'inizio è matematico ed è anche naturale. Ma io sto dicendo dopo dieci anni, no? C'è un mugugno. Allora ci vediamo, fra. Quanto dobbiamo aspettare, Maurizio? La rivoluzione è vicina, ha detto. Adesso Rimini veramente non conosco il dettaglio, ma su molte città italiane ed europee la critica è stata iniziale perché quando devi cambiare un'abitudine giustamente non sai quello che succede e hai paura di perdere una posizione acquisita. È giusto, è normale. Quello che succede nel medio termine è che invece la nuova abitudine che si crea genera nuove possibilità di business e di incontri, eccetera, che normalmente non portano a una critica pesante. Ora, quali sono i motivi per cui vengono limitati gli accessi dei veicoli in città? Primo, ridurre le emissioni climalteranti. Meno automobili ho, meno diesel e benzina ho, meno emissioni ho. Riduco l'inquinamento atmosferico, quindi abbiamo detto per la salute, riduco la congestione urbana, miglioro la qualità urbana della vita, preservo lo spazio pubblico come una risorsa che ha un valore, miglioro l'equità e la distribuzione. Anche questo, questo è un tema, questo è un tema molto importante perché si pensa che le ZATL, eccetera, sia una cosa esclusiva o vantaggio dei ricchi che vivono lì, ok? E che la distribuzione, diciamo, e la equità di queste misure sia questionabile. In realtà il problema non è tanto sulle ZATL, il problema forse sta nel vietare l'accesso dei veicoli, perché? Quando io vieto, e questo anche faccio il caso di Roma, Roma era stato deciso di fare come a Milano, cioè chiudere, fare una zona, una congestion charge, una zona in cui i veicoli che non fossero elettrici o almeno Euro 6 non possono, ma è una zona enorme, la zona dell'anello ferroviario di Roma è una zona che comprende, penso, due milioni di persone. Non è che rendere gli spazi più vivibili crea un problema sociale, il problema sociale lo crea a chi è costretto a entrare in città ed ha solo la propria automobile, ed ha un'automobile Euro 4 o Euro 3 o Euro 2, pensiamo a una persona che deve andare a lavorare al ministero, a fare la donna di servizio, o avere un qualsiasi uno studente, chi è costretto a dover entrare non può permettersi la famosa Tesla o i 4.000 Euro l'anno. Lì c'è un problema sociale? Sì, e dobbiamo dircelo che c'è un problema sociale, non bisogna non dircelo. Il punto è come fare ad aiutare le persone in modo che non ci sia questo squilibrio. L'Emilia Romagna qualcosa ha fatto, ora con i dati che abbiamo delle autovetture, noi sappiamo quanti chilometri fai, per cui forse non ha senso proibire l'accesso a una persona anziana che ha un'automobile Euro 4 perché non può entrare in città, perché se questa persona anziana viene una volta a settimana o due volte a settimana perché deve fare un'analisi o andare a trovare il nipote, in totale quanto contribuisce alle emissioni climatiche o pochissimo. Quindi facciamolo entrare, abbiamo i dati, mettiamo una soglia non solamente sul veicolo ma sull'utilizzo, cioè sfruttiamo le tecnologie in maniera intelligente e tentiamo di rompere questa guerra ideologica che c'è fra chi pensa che vivere in maniera sostenibile sia una cosa che non è possibile a chi non se lo può permettere, perché se chi non se lo può permettere non se lo può permettere va assolutamente aiutato ed è quello che sta accadendo anche piano piano si stanno ritarando queste decisioni e le tecnologie ci possono aiutare, però non è che possiamo buttare il bambino con tutta l'acqua sporca, cioè siccome c'è un problema di equità sociale allora non facciamo le zone 30 o non chiudiamole, perché a questo punto ci giochiamo tutto quello che stiamo dicendo fino adesso, il punto è come farle senza creare spereguazioni, questa è la vera sfida, è una vera sfida per le grandi città, anche per le città medio piccole, però per le grandi città parliamo, guardate Parigi, quello che è successo con i gilet gialli, Parigi è il modello di mobilità, però ci sono state delle critiche molto forti. I principi di questa nuova rivoluzione che diceva Maurizio sono, a livello globale, questi sono i principi utilizzati dai grandi centri studi sulla mobilità a livello globale, prima cosa quello che ci siamo detti prima, pensare di muovere le persone, non di muovere i veicoli, vi sembra una cosa scontata ma non lo è, progettare le strade per un sistema di trasporto multimodale, guardate che le strade sono ancora concepite come dei luoghi dove muovere le automobili, io quando vado in bicicletta a Roma mi guardano come uno veramente che sta provocando, ma non sto scherzando, provate, il coraggio sì, quello per forza, mi sono laureato nel 93 in diritto d'ambiente, ormai posso fare qualsiasi cosa, però proprio mi guardano male, mi offendono, come per dire ci stai rubando spazio, io che sto da solo su una bicicletta mi guardano, perché la mentalità è quella, i sistemi di trasporto multimodali vuol dire progettarli in modo che si possa ospitare l'auto ma anche la bicicletta, il motorino, il monopattino, il trasporto, ma fin dalla progettazione, assicurare sicurezza, comfort e continuità ai pedoni e ai ciclisti, migliorare la qualità del trasporto pubblico, secondo me questo è il più importante di tutti, perché se non miglioriamo la qualità del trasporto pubblico in termini anche di investimenti, in termini anche politici, se il trasporto pubblico non diventa un'alternativa sexy, quasi diciamo, non deve essere forza sexy ma almeno accettabile al punto di vista della qualità, tutto questo non regge, la sharing mobility è carina, ma se non c'è il trasporto pubblico che funziona, non tiene, questo è il punto centrale, integrare, diciamo, le zone, come possiamo fare, le greenscapes, le fughe verdi, allora questo è un tema importante per i cambiamenti climatici, lo sapete, voi siete, cioè il vostro lungomare non ha solo l'aspetto di mobilità e di vivibilità, anche l'aspetto naturalistico, cioè il fatto di limitare le isole di calore attraverso la vegetazione in città, è il trend globale, perché? Perché abbiamo l'aumento, l'aumento della temperatura in città è molto più alto che fuori dalla città, quando voi vedete i meteorologi che dicono, è, con i cambiamenti climatici, la temperatura mondiale è aumentata di un grado e mezzo e sta andando verso i due gradi, diciamoci la verità, ce lo possiamo dire? Noi pensiamo, vabbè, un grado e mezzo, sta andando verso due gradi al 2050, ma quella è la temperatura media globale che tiene conto dall'Equatore al Polo Nord e dalle città alle foreste. Se voi andaste a vedere quanto sta aumentando la temperatura media all'interno delle città, parliamo già adesso di 3-4 gradi rispetto agli anni 80. Allora, questo aumento della temperatura media, al di là che il fatto che uno pensi che i cambiamenti climatici siano derivanti dell'attività dell'uomo, secondo me è evidente, ci sono tantissime prove scientifiche, ma ammesso pure che io pensi che non sia così, ma siccome il termometro non è, non ragiona per ideologia, un aumento di 3-4 gradi della temperatura, tu come fai a ridurlo? Lo riduci solo se togli asfalto e metti alberi, se togli asfalto e metti alberi. Non ci sono tante alternative, le isole di calore le riduci, è vero che puoi fare anche degli interventi sugli edifici, ma sono molto più costose e ci vuole molto più tempo. Implementare delle funzioni oltre il trasporto e poi occuparsi del parcheggio come ultimo obiettivo. Come ultimo obiettivo non vuol dire che non ci devi pensare, va fatto come ultimo, una volta che hai fatto tutto questo, devi anche pensare ai parcheggi. Invece se voi vedeste la politica della mobilità urbana dagli anni 80, partiva da qua, pensiamo mai parcheggi prima, così ci si muove meglio. Che è successo? Non è vero, dicono questo, hanno anzzeccato tutte le domande e poi dicono anche adesso? Non lo so, a me Rimini sembra abbastanza equilibrata come città, però magari... Chi viene da fuori la vede diversa forse. Muovere le persone e non i veicoli, invertire la piramide, pedoni, ciclisti, trasporto pubblico, veitele commerciali, automobili. Disegnare e progettare le strade per un sistema di trasporto multimodale prevede appunto stazioni per le biciclette e il bike sharing, prevede continuità per i pedoni, prevede piste ciclabili, prevede anche la possibilità di andare con le automobili, ma con un equilibrio fra tutto questo. Delle greenscapes abbiamo parlato e di quanto possono aiutare. Ora c'è un signore che ha messo sul suo sito, sul suo account di Twitter, Emmanuel si chiama qui sotto, Emmanuel ISPV, le foto di Parigi, perché lui vive a Parigi, di quello che è stato fatto a Parigi negli ultimi quattro anni, una rivoluzione vera. Se voi vedete la strada sopra e sotto, sono migliaia di strade, strade sconosciute, non è che parla, guardate, prima era così, adesso è diventata così, biciclette, un po' più di spazio per ristoranti, aiuole, ma di queste le mette continuamente. Ne fa continue. Ed è stato veramente una rivoluzione. Ora, normalmente quando lo dici a un romano, fa vedere queste cose a un romano, c'è un po' la sensazione, come quando dice in italiano, che ne so, le passe in Norvegia, cioè, ma quella è la Norvegia, come per dire, Parigi non è paragonabile, ma noi dovremmo, siamo a Rimini e dovremmo rivoltare l'approccio, ma se Parigi l'ha fatto con tutti i problemi della grande città, realizzarlo in una città medio-piccola forse è ancora più facile e soprattutto una città con una vocazione turistica che ha, come Rimini, e con un'esplosione del trasporto ferroviario, per cui molti turisti verranno col treno e si vogliono spostare non con l'auto privata. Forse un'occasione del genere, un'occasione imperdibile anche a livello economico. Rimini può diventare un esempio di mobilità urbana condivisa e sostenibile, cioè la gente può tornare da Rimini non solo dicendo, come dice adesso, è una città bella, è tutta organizzata, si mangia bene, i romagnoli sono simpatici, sono stato bene, ma è anche una città con una vivibilità pazzesca. Già lo è, ma può sfruttare tutto questo anche perché il costo di questi interventi è infinitamente minore rispetto al costo delle grandi infrastrutture e porta dei benefici economici molto alti anche agli operatori locali. Tutto questo è un trend che gli architetti nel mondo chiamano urbanismo tattico, urbanismo tattico, cioè non servono interventi strutturati con le macro infrastrutture, con i macro piani nazionali, servono anche degli interventi che possono anche essere piccoli ed estemporani. Qui sono casi eccessivi, forse anche provocatori, ma pensate che già a New York nel 1916 a un certo punto la polizia ha detto chiudiamola, questa strada viene chiusa, oggi diventa una strada dove i bambini giocano. Hanno messo questo e l'hanno chiusa. Esperimento a New York nel 1916, Liverpool 1970, strada chiusa dalle 8 al tramonto perché ci giocano i ragazzi e possono entrare solo chi ci abita. Sono iniziative, Londra oggi, iniziative estemporanee, volute dalla cittadinanza, che però poi hanno seguito, all'amministrazione sono piaciute e l'hanno poi istituzionalizzate. Questa era un'azione clandestina a Delft, per cui hanno deciso di limitare i parcheggi e di dedicare quest'area alla pedonalità. Questa è San Paolo. Le nostre domeniche ecologiche, create dal mio presidente Edo Ronchi, nel 1998, non sapete le critiche, forse ve le ricordate le critiche, ha dovuto fare una campagna di comunicazione chiamando l'unico che poteva convincere i romani, oltre il Papa, che però non si è prestato a fare questo, oggi questo Papa lo farebbe, mi sa che c'era Paolo, no forse c'era Voitila, pure Voitila, però ha scelto l'altro grande Papa, forse più importante di Roma, che era il numero 10 dell'unica squadra della capitale, che si chiamava Francesco Totti, che ha dovuto dire ai romani facciamo le domeniche ecologiche e i risultati sono stati molto buoni, guardate questa in una città tedesca il venerdì alle 4.52, quando ancora era aperta al traffico, la stessa strada il giorno dopo alle 9.24 e la domenica alle 13.36. I cittadini si riappropriano degli spazi. Times Square a New York, non è in fotomontaggio, cioè i new yorkesi si portano la sedia e vanno a Times Square, prima, dopo, quando chiudi al traffico, cosa accade? Questi sono dei ragazzi che hanno deciso di fare depavement, cioè hanno deciso di creare loro delle zone per limitare le isole di calore, semplicemente togliendo la maturina, dopodiché quella strada poi è rimasta così, cioè ormai è diventata una strada verde. I genitori probabilmente stanno in carcere, ma è secondario, la cosa importante è il bene della città. Allora, concludo questo tour per dirvi che cambiare è possibile, voi l'avete già fatto e lo state facendo e abbiamo una grossa opportunità per farlo, ma ricordiamoci che ci vuole un ventaglio di servizi a disposizione del cittadino che deve funzionare. Se non funziona questo ventaglio non si può realizzare tutto quello che abbiamo detto. Grazie. 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 Grazie.